Un'atmosfera unica, speciale, la musica, il canto, la pittura, la scultura si uniscono insieme per lanciare il loro messaggio contro l'individualismo sfrenato della realtà moderna e l'arte si fa contemporaneamente. Questa serata secondo me rappresenta il mistero di ciò che ancora non conosciamo di noi stessi, però è anche fortemente gospel questa serata contemporaneamente perché ci chiama e ci invita a guardare dentro di noi, a lasciarci abitare dall'altro che crea con noi la preziosità umana, perché tutti noi, non solo gli artisti, ma insomma ogni uomo è artista, perché come un equilibrista secondo me cerca di reagire alle difficoltà della vita e rimanere in equilibrio, per cui la serata di questa sera, questo concerto, secondo me è un'occasione per creare qualcosa insieme, quindi lasciarsi abitare dall'altro e abitare l'altro, per cui c'è un rapporto di donazione profonda, di ascolto, e mettersi in ascolto è secondo me nella vita la preghiera più bella. L'idea è nata così, per caso, ci siamo trovati un giorno a parlare con Alessandro di organizzare qualcosa qui alle officine canterne, e abbiamo pensato che si poteva, come dire, mettere insieme le varie arti, come noi pensiamo che... D'altra parte questa è un'idea che noi abbiamo da sempre, nel senso che da quando il gruppo Tracce nasce nel 2008, con la prima rassegna d'arte contemporanea che abbiamo fatto ai magazzini Exupim, abbiamo avuto sempre quest'idea dell'aggregazione, della contaminazione, del dialogo fra gli artisti. Che noi viviamo per questo, cioè noi viviamo per creare, noi viviamo per... perché ogni giorno ci piace farlo, perché è un'esigenza fisica. Voglio essere ispirata, così com'è l'idea appunto della serata. In questo momento mi sto semplicemente facendo prendere quello che sto sentendo dentro. Sarà assolutamente tutto, sarà la vibrazione della musica, sarà la vibrazione degli artisti che mi circondano, e probabilmente anche la vibrazione del pubblico. L'individualismo, sprendato di noi artisti, lo mettiamo da parte, almeno noi, ci proviamo. E poi vuol dire cosa? Sono emozioni, quindi le emozioni sono soggettive, ma ci lasciamo andare, semplicemente. Le emozioni sono estemporanee, si può partire con un'idea, però poi alla fine l'idea svanisce, perché le emozioni cambiano di seconda in seconda, una frazione di seconda è tutta un'idea. La materia naturalmente nasce l'oggetto, sto disegnando un ovale, e poi rappresenterà ovviamente un grembo materno nella parte finale, dopo che ci sono tutte le fasi dell'elaborazione sulla pietra. Per cui prima si disegna, poi si taglia o si scolpisce, e poi si realizza l'opera di arte contemporanea. La creazione è come fosse un parto, insomma. Sì, esatto, proprio come fosse un parto. E poi l'arte è questa, insomma. L'arte ti deve prendere, ti fa creare, insomma, quello che più ti piace, naturalmente. Quindi ti prende, e alla fine partorisci quello che hai pensato. La pietra, perché voglio dire, noi abbiamo un passato di... scultori della pietra, però poi nel corso del tempo ci siamo un po' evoluti e siamo andati avanti alla ricerca di altri materiali. La pietra, perché voglio dire, noi abbiamo un passato di 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 un passato. La pietra, perché voglio dire, noi abbiamo un passato di un passato di un passato di un passato. La pietra, perché voglio dire, noi abbiamo un passato di un passato. Grazie. Grazie.